Ciao a tutti, 24 febbraio 2018, le previsioni davano neve, in realtà a San Salvatore, provincia di Genova, Liguria, neve non ce n'è. Quindi a bordo della nostra AR76 ci inoltriamo nel nostro introterra e andiamo a vedere se troviamo un pochettino di neve. Proseguendo nella nostra risalita, finalmente a Villanoce, una frazione del comune di Rezzoglio, cominciamo a trovare la neve. Finalmente possiamo dire di aver trovato la neve, siamo poco dopo a Bordasco in direzione delle casermette del Penna. Siamo quasi arrivati al rifugio del Monte Penna, possiamo essere molto soddisfatti, abbiamo trovato la neve. Per fortuna che siamo a bordo della Campa perché nonostante la strada sia pulita, è ghiacciata. Donate gli alberi. Quando si dice che la Liguria è una terra tra mare e monti, direi che qua oggi è evidente. A presto. E dal rifugio del Monte Penna, il Tempio mi saluta e vi aspetta al prossimo video. Ciao! Il Tempio di Antala Il Tempio Il Tempio Il Tempio di Antala Il Tempio Grazie a tutti.